ciao allora oggi cosa cosa facciamo ste che ne dici giocare un po pokemon ma si dai oh yeah siamo proprio noi con la musica mutata aspetta per fermare avuto attivato ok cosa dobbiamo fare ste buongiorno a tutti l'idea di finire di esplorare tutto no si quindi andiamo su andiamo su andiamo nord nord come ciò che c'è in alto nord bpn vero che ci sta pubblicizzando nord bpn lecce di due sbronzi sì 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 hanno fatto la cattura sì ok quindi affrontiamo gli allenatori vai vai adesso non so se hai visto mentre 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 live ma o cercando per i pozzetti per internet live mi si è staccato il cosino che gli apre no che palle no no lo li ho attaccato io ho spaccato tutto si ho preso li ho sfondati contro il muro ah ok ok va bene o marò al 68 ah se io pensavo che i pokemon al 60 bastassero per non è così ecco non è no guarda c'è angela potevi avvisarmi allora sto morendo mi ha detto una casa da lavoro dopo che tu non mi dico sul femorale di un paziente per 25 minuti vabbè alla fine lo si fa dai ho insegnato avvalto terremoto bello al posto di fossa per questo che fa più danni forse gli stessi non mi ricordo mi ha sciottato baldo anche qua la situazione non è critica forse stiamo sbagliando strada mi ha sciottato baldo cosa ha fatto non l'ho visto mi stavo soffiando il lato ho trovato anche il tempo soffiando il lato ok godo dice ma come gode oh che tocca una wow qua finiamo la run ha 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 bravo tossinalo tutto ma io ho fatto cioè bastava che baldo fosse più veloce ho fatto terremoto ho detto un pokemon elettro riuscirò a tankare i suoi colpi elettro no no ho fatto sta mossa nella merda è andata male accumulo colpa usato comunque si va bene ma non è possibile un po si boru da facciare tutti i colpi amaro bene bene no bene bene un paio di palle nazzo ti prego nazzo vai nazzo ciao luke buongiorno non c'è sex mi spiace ok io ne ho ammazzato uno e io sono in difficoltà ste però lo veleno devi ok il veleno di amaro ci ha portato in salvo dovevi poter avvelenarlo così ti curava sempre moriva e l'ho iper avvelenato e sono morto comunque du 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 snap snap electivire oh madonna eh sì pure stridio va bene dai no è un'allenatrice a caso per strada angelo non è a ghegis pensa fosse ghegis come dovremmo mettere marò nazzo è confuso nazzo distituisco che posso mettere non lo posso distituire mi shot a tutti gli altri ma forse maxi posso mettere maxi boni che ce l'ho fatta e vedendo la situazione di questo percorso potremmo optare per cambiare strada guarda sono d'accordo me lo shot con un traggio però posso rimettere nazzo che non è più confuso dai che rimpievo un box adesso che talo danza giga impatto 150 di base ostia però perde perde un turno perché si deve ricaricare adesso ed è pure finito da mitorsolelmo goto ottimo 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 è l'ultimo no magari magari che è morto cazzo amaro cazzo amaro e valto e zorro ok anfaros ti dico che può avere segno raggio anfaros che è una mossa con le otter che mi shotta natsu shot non lo so però essendo comunque eh credo che sia a questo punto ecco però è però è se tolgo un asso metto un farò sto drago net drago net drago net però resiste a elettro a drago net puoi curare drago net e se mi shotta prima di curarlo? ma c'è anche erduka no per erduka erduka è acquaterra erduka è acquaterra si poteva evitare tutto quanto no tutto quanto non è che hanno fatto solo mosse fisiche fino a ora cioè solo mosse non elettro hanno fatto colpo che mi ha shottato quattro pokemon ho messo nel forno una torta bravo lolman portaci una fetta grazie assorbi pugno statico occhio statico di abilità statico? non la faccio con la voce schermo luce riduce le mosse speciali quindi faccio con elua con calma ci sta lavoriamo di tattica canzone di? pinguini tattici nucleari pulminacci lo sapevo volevo poter essere attento eh sì sì mo gli faccio gran voce ho tolto da l'alto ecco ho visto che fanno gli stessi danni però non sono non sono obbligato ad adattarlo a più cosa ne fa quanto non ho capito non ho visto la difesa ahhh aumenta moltissimo quindi ha fatto cotton scudo due volte conto spore quello che era oltraggio è fisica o? oltraggio è fisica a questo punto nonostante lo schermo luce conviene fare speciali ma infatti che le mie speciali fan cacare contro di loro si a meno che non curonatsu faccio erbo perchè poi ho speciale sua nooo ma secondo me con merduca ce la fai con surf? si pian piano vediamo un po' probabilmente è solo mosse elettro sto qua quindi non ti fa nulla eh invece va la segnala eccolo qua mi raccomando le rare più uno super rare più due non mi puoi dire sto comando dai campione ehi campione tra l'altro non mi sono mai riuscito conto che il tuo colore di sfondo è uguale al mio che scusami perchè volevo vedere come funzionava il tag quindi ho poi guardato il mio e il tuo che però è uguale perchè sei con lo senso arancione eh si allora allora 90 hp dovrei resistere ho fatto un ruttino bravo ah no sono più veloce io perfetto e ancora cerco la ghost eh sarebbe bello siamo a posto senza morti oltre a quei due si esatto senza morti con metà squadra lì e che altro passiamo da sopra anziché da sotto eh mi sa che forse è più comodo non lo so non lo so nemmeno io o evitiamo tutti gli allenatori possiamo anche farlo però e guardiamo solo la lore cioè cerchiamo se sono scarsi magari li teniamo cioè li facciamo eh ma come facciamo saperlo? dobbiamo sfidarli per doverlo eh dobbiamo sfidarne a meno uno si eh ma se questa è la situazione non so se ne voglio sfidare a meno uno Balto mamma mia Balto allora intanto mi piacevi così tanto eh magari troviamo un revitalizzante eh però se troviamo un revitalizzante non so se tiriamo su lui vero anche questo chi è che vorresti adesso? eh non lo so se non lo so guarda io non lo volo quindi quindi prendi volo stai lì e vieni qua magari come era stai lì va bene perché no perché no perché no perché no ah perché no sì ecco mi devo dare volo e poi vedi tu l'altro sparito niente alla fine ciao ragazzi eccomi ma mi devo socare il nado ogni tanto perché l'allergia non mi lascia a scarso eh sì e poi e poi e poi scegli tu scegli tu scegli tu scegli tu scegli tanto devo mettere le mott di Angela ma mi dimentico sempre madò c'è c'è non lo so eh chiunque va bene eh comunque è maschio o femmina perché no? femmina è rossetto vero? sì sì ti dirò il rossetto stona veramente tanto col resto eh sì eeeh esci vedete chi hai te? chi è il tuo quello di fianca snivey? come si chiama? Valeria? o Folletto Sanderson? Sanderson dunque chi è? Doom Spurs non mi ricordo che no chi è il corrispettivo quello giallo blu sopra HP ah sì è vero non è male lui se ti piace va bene no le cioè dico per le mosse che ha perché a forza antica poi arrotola che non mi ricordo cosa fa perché non l'ho mai usata però trespolo hai anche fuga facile se vuoi tenerlo davanti puoi fuggire i pokemon salvati eh non è male non è male così tu hai un bel leggendarietto dai che so che tu hai difficoltà con le lotte sì io sono uno scarsa allora fammi insegnere voi ma mi hai anche comprare un po' di cure va ah sì è vero bravo cosa ti spendi tu messaggi niente posizione massima io vado di hiper quanto fa? ah no mi bastano le hiper si ah mi devo anche curare posso prendere 99 no non esagerare ah ok allora ne prendo 30 si va bene si va bene ma ste ma ci sono i rivitalizzati qua ma non vale ma li compriamo non si può ma guarda che ce li hanno eh eh ho capito le togliamo baldeali ancora che ci ammazziamo noi baldeali mi ha insegnato io a peraltro nonostante da piccolo nell'anime mi piacciono un sacco quello è proprio un figo come mosso andiamo pure a Boreduopoli vediamo un po' com'è la situazione eh ha detto Boreduopoli Boreduopoli adesso io ora sono all'80 vabbè 200 niente ci andiamo qua andiamo da naso ci facciamo fare pure Tarallo e ce ne andiamo ho detto 60 perché vabbè quanto devono essere forti sti qua mannaggina li alleniamo un po' insieme su via dai infatti andiamo pure dai iiiia nuovo percorso tra l'altro mmm non so so poco boll ma controlliamo subito dai dove sono le boll boll dovrebbe essere nella tasca grande ciao F ciao Ferranzo ultra boll no 28 si 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 buongiorno eh ma qua non abbiamo se riesci a evitarlo dimmelo io non ce la farò eh il mio sta puntando dritto la zolla eh immaginavo oh ce l'ho fatta allora vediamo se ce la faccio io se no aspetta mi cacco eh ma si è girato quando passavo bastardo niente eh 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 inglese ma F ma grazie mille F ma guarda sei veramente un efferanza eh dai meglio di prima eh beh beh dai ex youtube che tipo è erba psico faccio oltraggio e porca miseria però no non ci costava farli fino al 65 almeno eh scusate qualcuno ha detto erba si l'ho detto secondo me dovresti mettere il text to speech agli alert no che mi da fastidio poi mettilo per le donazioni così la gente ti da i soldi sarebbe davvero rito potrebbe essere per le donazioni è stato facile però dai era solo uno al 65 quindi magari il livello medio basso io ho trovato una merda di velocità x catturiamo? vai ciao Nama tra l'altro amici mi ricordo oh cazzo Oh cazzo Gege mi spiace se succede questo esplode sicuro metti uno scaus davanti non processo metto lo spettro che non prende l'esplosione però se esplode da solo mi spiace quindi aspetta a catturare vediamo che succede vabbè gli faccio un tanto magnet ascesa ok un tuono onda gli faccio vabbè comunque sto dicendo intanto che se cerca di ah non ha effetto polca puzzola polca mentre se cerca di rimediare a questo grande danno che c'è l'ho catturato l'ho catturato l'ho catturato perfetto io vi dico che mercoledì amici c'è il cinematto vero eh e andate a votare i film io spero votiate Aldo, Johnny e Giacomo ma votate solo se ci siete perchè se non ci siete non ha senso votare eh eh allora non ho una mossa avvissato no eh niente non so ho vola di distruggerlo se a impararsi seme provi a catturarlo prima che muoia non ce l'ho no ok quick call no ultrapone dai speriamo il cinema delle persone mentalmente instabili il cinema dei matti come noi con la sgueranza di esserci poi non ci sono nemmeno mai mamma però un cazzo impegniamoci vabbè finalmente sbarca Aldo, Johnny e Giacomo al Cinematto forse io sono molto contento per la cazzo di ora eh ah io sono il pokemon il pokemon ball se vuoi possiamo chiamarci Roberto e bolle bello mi piace però io mi chiamo balle roberto balle va bene vabbè lascio via ridere così tanto mi ha fatto ridere assai roberto qualcuno ha detto cinemato ebbene si roberto roberto balle perfetto vediamo cosa trovo qua carburante il musano di Aldo, Johnny e Giacomo lo sappiamo ma tanto non sceglie mica lui ehm è vero è vero né ehm possiamo skipparla facendo surf se vuoi parapapap aspetta però cioè lo sapevo guarda lo sapevo ormai ormai ne sa uno in più di la strageo vabbè io ho un dolce cuore già che ci sono c'è un altro gioco sopra voglio vedere se c'è qualcosa nel mare ah mi sa che è sopra 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 nel mare di là ok mare fuori che mi ha proprio scasciato ucazza eh che bello lui chi è peliper sì WINGLE invece è brutto sì non è che è brutto è un po' anonimo poi si sa i gabbiani stanno sulle palle oddio ste c'è cascata no ma che piccolo ma è shiming wow bravo bravo eh vabbè oggi non ce la faccio io oggi sei proprio un pyro ste veramente come pioli allora perchè pioli? per la canzoncina quella sì 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 mi soffio il naso di nuovo qui dentro non c'è niente di particolare eppure sembra così pieno secondo me sta mentendo avrà sicuramente della droga non trovo niente io li sono fai esatto questo è difficile da schippare cioè per te no ma ecco l'ho fatto anch'io vabbè di solito ero io quello che non riuscivo a schippare è vero cambietto tutto anche i pokemon vanno matti per i panini del ponte villaggio e ci credo sono imbottiti di ottime pacche hai capito e i panini con le pacche? non mi convince ponte villaggio c'è il il cosa per prendere l'acqua c'è anche dell'erba c'è dell'erba sotto se vieni sotto a sinistra c'è dell'erba ragazzi erba alta ahj 잠 eso ha preso eh eh no lo voglio grazie ha la prova e mi dispiace o lo prendi lo prendi con onda easy uno shagurato borsa no no ho sbagliato lasciami fare per piacere va bene smettere di utilizzare le percette e premere col pad perchè è più facile eh si col test screen è più comodo col pensi vabbè con ella ella mi sono il po' come un paguro quindi tu sei Mirko e io Alessandro va bene Alessandra Alessandrina Alessandrina va bene con la K Mirko? certo che domande non so ci sta? Alessandra Alessandra eh si eh si eh si eh vabbè dai si 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 ma perchè Alessandrina era Tentacool lui è Tentacool lui è Tentacool quindi è Alessandra cosa fa c'è qualcos'altro? sono delle persone ci vogliamo parlare oppure mi picchio se vuoi parlare parla io non ti obbligo di giorno non bagni di sole di notte bagni di luna di sole mi sono tutto buonato vabbè di sol o sole o mar vediamo le case speriamo no c'è un oggetto nascosto ah sotto quale sei? nella prima sopra ok vedo quella sotto io non c'è non esistono la case sotto ciao big ciao big faus big fausto come stai ancora vivo è pure la terza sono solo no voglio vedere se c'erano sì no sono solo se c'erano pure sotto no se parli con il tizio dopo la terza casa senti un beatbox nella musica ma si chiama Salvino ma non lo senti il beatbox scusa puoi parlare lo senti cosa dice il tuo oggi non sono in forma e mi si è persino rotto il microfono giuro che di solito sono molto più bravo ma perché hai visto di pure e ha smesso parlagli di nuovo ma perché il mio è un tenore parlagli di nuovo e non non parlagli più adesso lo sento ok perché se gli parli stop no non so perché tu fossi tipo uno che faccia beatboxing mentre lirico anche da me aveva iniziato connesso un dorm ok e cosa c'hai lo zaino eh diglielo un po' faccio la seconda faccio la seconda casa io sì parto da ricerche di nuovi orizzonti assieme ai miei patrat ce la farò cosa? è partita in viaggio con i suoi patrat ah sì poi la ritrovi su un ponte questa qua mi pare la terza casa l'hai fatta? la prima c'è qualcosa sono andato adesso oh 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 demon se posso demon ma perché qua non c'è il centro pokemon oh oh qua sotto chiosco del ponte villaggio ci sono tante persone sedute chi sei tu salve hai ordinato una sfida? non c'è io sono da tutta altra parte un marò se io c'era una panettiera ho detto magari ci da qualcosa eh Simone panettiera ci da un premio questa mi ha sfidato va bene smirgole quello che ti aveva sfondato no? ti aveva sfondato su platinum forse eh sì un marò devo ridere perché grande piede in realtà è due piedi per me perché biggie è biggie due piedi e piedone quindi ma tu sei un piedone c'è snowdacks snowdacks è da fare da fare ostia lo shotto no pf eh ma lo fa pf ok c'è anche un minigioco dove devi prendere le ordine assegna gli clienti sto bene così come? drago danza gli insegno ah pensavo dicesse drago danza io glielo insegnerei proprio guarda al posto di l'attacco d'ala è una bella domanda avevo cascata comunque ah ce l'avevi è stabata attacco d'ala però tono anda è figo però non so vai di su una delle due secondo me no tono anda mi serve mi serve eh sì ok tanto ho cito il mi band al piano superiore oggi quindi mi dà fastidio non sentirlo non percepirlo niente notifica che gli dici davvero un po' che facciamo lo facciamo che lo facciamo buongiorno valeria ciao valeria no cioè c'è un premio alla fine non ho un'idea ma non vorrei ci fossero troppe lotte poi cose così ah ma sono lotte no non credo però non lo faccio proprio ti puoi fottere c'è il ponte io sono sotto il ponte sotto il ponte andiamo c'è il piedin che fa la cacca che schifo ho trovato un pokémon come hai trovato due pokémon ma che bello raiperior si chiama raiperior eh bello bello lui sì oh sì la petrovale cosa fa la petrovale mi serve per far evolvere un pokémon che è morto magari no è un pallo pallo che deve ancora evolversi ah ok possiamo prenderlo in squadra possiamo dai se no lo faccio a volvere poi la prossima volta si ammazzano Dino che ti dà un botto di esperienza ma mi sfondano no allora lascia stare no 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 questo sono 57 e 58 lascia stare no ma sono 57 e 58 lascia stare sono 57 e 58 va bene oddio ma oltraggio poi danno pure a Natsu no non mi pare è uno di cui l'unicima no lo uso su di me è perché poi ti confondo è quello cazzo solo quello stessa cosa petrovale Anza adesso ha un mazzo ma è Natsu o Mazzamaxi no 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 e mentre muore uccide mentre muore sta ancora rodeando cosa fa l'ultima scelta scusami è una mossa forte ma prima di usarla devi aver usato tutte le altre mosse almeno una volta e cosa fa 120 di base vabbè poco sì non è eccezionale però essendo normale pure stabbata comunque dove ecco sì poi c'è un altro in alto a destra posso parlare col signore col flauto sì fiofio fiofio mi sa che l'abbiamo già fatto però se vuoi andare ovviamente tu parli col flauto vado ha fatto partire il flauto buonanotte buonamattina anzi buonanotte cioè borricoso top ecco sì vuoi segnare un cane twitch devi andare su regalo un abbonamento sì poi su 10 abbonamenti i primi 10 si si apre un mondo guarda e poi si apre una causa per per gruppa sì sì mi raccomando 10 non 20 che sono un casino grazie Valerio questo adesso di due minuti fa tanti auguri blam l'abbiamo detto sincronizzati sì due sbrondi due ubriaconi guarda io farei qua la cattura in caso ma mi sa che tu l'avete già trovato vediamo vabbè stai tranquillo però eh lo faccio in acqua facciamola in acqua deposita poco aspetto qua sotto non ci sei auguri eh non sei sono sparito adesso ho visto che non vedi niente c'è un gruppo di gente che ti malmena male ti ammazzò tutti i pochi infatti si apre la squadra tutti i morti do curarmi allora siamo pronti vai posso fincare mi sa che lo vedi te sai ma no è hobby comunque non lo posso prendere ce l'avevamo già vero eh sì è quello che ho no eh cosa ciao c'è un pino come si chiama quello lì diciamo all'ultima è ingiustizia ingiustizia bravo bavo bave 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 ma adesso puoi volare al ponte villaggio oppure no abbiamo perso due poche non c'è un pain sì veramente in maniera anche brutta questo dieci hanno aggiornato la grafica che imbecile posta pokemon che imbecile chi è che volevi volevi se prendiamo pallorosa al posto dei folletti va bene va bene fammi volare al centro pokemon aspetta che liberò pip sì ok voglio mettere il sss ci sono strumenti tra i morti che beh piuma piuma bella piuma bella sì chi è morto balto e zorro nel gioco è cazzo amaro però ho trovato la pietropale devo dargli la camera funziona è nel gioco sì sarebbe una tragedia se morissero valto e zorro lo stesso giorno lo stesso istante ieri c'è una caramella rara no sì eccolo pallo si sta evolvendo è diventato un pallo banani allora fammi mettere la grafichina con banani ecco è fable no sì ma non è banani ah è per il verso sì banani è proprio banani proprio banale tu sei banale lamponi non mi ricordo chi c'era con te dove sta eccolo sto dicendo ma che poi entrambi i nostri pokemon sono quelli che hanno o solo il tuo sono quelli che hanno le per me le gioie mi sa solo il mio ah pensavo che in base alla generazione cambiava in alcuni c'è forse audino eh sì è vero ve lo ricordo questo mi sono cercato valeria valeria che fai cosa è uscito fermate quel ladro ah cazzo che schifo di poco chi è? buona lezione biggie cicilia va bene viaggiramondo che ha flygon vado lo sdrumo però il 65 forse è più veloce di max quindi distrugge secondo me no oltraggio goto ciao cicilia cicilia adesso ti muore c'è appena è venuta sarebbe divertente ehi fermate quel ladro ma di cos'era? era di mamma per solerio quando ruba lo spazzolino scusami mi dicono del catelare cringe non ho sentito niente scusa era di mamma per solerio quando kevin ruba lo spazzolino ah è vero è vero allora devo battere cicilia ci sono i poliziotti che si mangiano la ciambella classica cosa americana questi poliziotti indaffarati indaffarati nel mangiare ciambelle è nulla c'è cicilia questa qua vado un attimo avanti va bene oh c'è su quali pokemon farai conoscere prima la mia nipotina allora troverò un pokemon per me e quando saremo diventati voi amici al giorno insieme per tutta univa a me me l'hanno regalato voce c'è un ponte ste è una casa ponte ponente ponte p oggi ho proprio dimenticato di indossare la divisa ma pensa te imbecille dove siamo percorso nuovo aspetta mi arrivo percorso nuovo eccomi aspetta un attimo c'è 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 super colpo poggers per dirci ho preso un colpo un super colpo c'è un oggetto nascosto lì che paura ma no cenere magica cenere magica fosse scudo l'avevo fatto non mi ricordo cenere magica cenere magica poggers quanto siamo non me lo ricordo sai controlliamo 1 i rimedi 2 1 2 3 4 dura 4 di 6 manca uno e possiamo rivitalizzare un pokemon allora boia faus turbo fuoco vuoi fare lì la cattura dove ci sono i pokemon doppi va bene no forse no come voi no no qua sotto va bene non riesco a gestirmi di catturare no lui non posso che c'è già l'evoluzione io sono imbarazzato bravieri diventa octilleri lui ho capito ma un sacco di acqua di nuovo la mia maledizione sta tornando è vero alla fine del gioco è angela ci saranno sfide più grosse magari più avanti io ce l'ho fatta guarda usa no aspetta ma octilleri non lo avevo già fai un check al volo e come fanno catturola pure aspetta no no ho la guarda la live che prima ho aperto il box per mettere balla ok se riesci non mi ricordo sarà lo scorzeranno o questo vedo io sto prendo sto prendo chiaramente se non puoi catturarlo andare a box vedere poi dai fammi pare per cortesia si 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 qua è morto balto qua è morto cosetto allora fai vedere un attimo eh si lo avevo già lo avevo già godo godo perfetto cambia pure allora riunione finita natsu bentornato oh girls direi ma c'è machok ce l'avevi? no non credo perfetto machok è quel pokemon che non mi ha mai detto nulla ho proprio niente è incredibile no non lo so non mi dispiace sono un po raffreddato cioè non so se raffreddato o allergia sveglio pack questa se dormi fa più male infatti io non ho fatto nulla perché in realtà è solo così ehi ehi su esatto si so che se dormi se dormi ti rompe le palle anche eh... sì allora tu che avevi preso brav'ary potrei avere un nome se riesco a catturare machok Pokémon Baldanza Non faccio nulla perché ho voluto di ucciderlo No, non c'è sta, c'è sta Oh No Non mai parlare, non ti dici Mai Se vuoi farti una cura ci stai Ah beh dai Metto Natsu che Tang C'ha bitorzo l'elmo pure no? Sì, lui fa colpo basso e mi shotta Natsu Può essere Submation One Nation One Station Vagon Mazza Mazza, sei proprio un cretino però eh Si sta uccidendo con le sue mani Con le sue possenti mani Guardalo lì, Baschirotto Ah, può essere Può essere Baschirotto lui Oh Daie Quindi come li chiamiamo? Se ti piace Baschirotto Io mi chiamo Federico Ah, pensavo tipo Baschirotto Ah, anche sì Però non c'entra tanto con l'Aquila È perché Federico invece È un nome come un altro Va bene Federico Baschirotto È Federico, no? Aspetta, prima di fare cacate Federico, sì Eccolo qua Quindi, cosa devo scrivere? Baschirotto Ci sta, sì Federico Non ci sta Aspetta Ecco qua Ma è adoro No, la Baschirotto Baschirotto Rega Rega Reggez Sbreggez Ah, ragazzi E datte una calmata Alibur Tc2 Ci sono un sacco di strumenti Scudo acido Un MT C'è qua sopra Poggers È un po' Con tutto sto dislivello Non mi sfida, vero? Anche se posso Aspetta Ci sono due strumenti Ma che fastidio Oddio Dolce cuore Sbio, non ti pare comunque sbagliato il fatto che io sia l'unico che sa impegnare a suscitare i propri Pokémon? Eh, ne ho trovati solo due, difatti Conchinella Beh, io credevo aver finito con gli oggetti Tanto che ho paura di spavere Se vuoi ci sono degli allenatori, stanno niente Guarda Non ti preoccupare L'uomo in polvere Riuscita qualcuno a l'uomo in polvere? No, no, no È quella che diminuisce la precisione avversario Oh, Marot No, no Non mi guardare Non mi guardare Non mi guardare Non mi guardare Poco al nastro Anch'io l'ho trovato lì E l'ho non è randomizzata Bravo, Giampino Quello mi dà fastidio che non ci sia nulla Eh, sotto Questo oggetto Sotto, no? Aspetta che Questa mi fa porca Polca polnavia, polca Che piccolo merito È vero A prendere a ceffoni, guarda Ma perché, è cretino È così piccolo Ah, forse sotto le No, mi ha sfidato Bello sto pallo, sì Pallo con la pallina coda Coda palla È sotto l'allenatore, mi sa E mi è Sto impazzendo sto Sto impazzendo Bello Spirit Town Tipo un sasso da cui esce un buco nero Pokémon senza debolezza Per ora Per ora Tra l'altro è un Pokémon di Camilla Cioè, immagina se tu arrivi alla lega da Camilla E ti trovi Lui senza debolezze come il primo Pokémon Eh, ma lo fanno, eh Pallo con la pallina coda È il cugino di Topo Topo Topini Che piccolo Topo Topo Topini Credo sia Ah, no, non è lì, allora Dove si va? Però mi hai sfidato quello lì, eh Ti ho sfidato? Ok, un attimo che ci puoi capire Forse è sopra la città Eh, ma li sa Eh, metà, metà Tre Pokémon 63 Eh, vabbè Ma è Lucia e anche Giuliello È vero Anche se Lucia era più forte, secondo me, di Giuliello, eh Azz Io lo dico, lo dico È un affronto, questo Lucia sostituita da un Lamprath Che io non volevo Ma voi mi avete obbligato a prendere Ups Upsi dupsi I did it again Su, Anna Su, Anna Muore così Topo Topo Topini Qua che sa, era di nuovo Che è sta cosa? Ok, ce l'ho fatta Brilum, è quello che hai anche te Sì Forse è morto Brilum, lo aveva anche il rivale di Ash, mi pare A Sidno Può essere Può essere tutto nella vita Può essere vero o può essere... Continua a lottare Un sasso Apri tutte le porte Apri tutte le porte? Apri tutte le porte? Per entrare il sole Non so Questa città mi puzza, eh Dici? Ok, siamo rincoglioniti ed era attaccato all'albero Perchè non vedo accessi Ah Ah Mi sa che si è arrivato un po' di inverno Cosa così Babba fangulo Ci vorrebbe un bel cuscino E prenditelo Cuscino in gulo, eh Aspetta, cos'hai detto, dove c'è l'uovo? No, è la persona, è stato detto Pokémon Ah, che fanno le cosacce Eh, lo fanno Eccoci qua Fortebrezza Brezza Brezza Avevano finito i nomi dei venti, purtroppo Perché la rosa dei venti è quella Eh, sì Rosa dei venti che fra l'altro Era il simbolo che aveva l'ufficio di mio padre di ingegneria Foggers Eh, sì, sì Ciao Questo vende MT per caso Assolutamente no C'è un oggetto misterioso Snap, snap Dov'è? Qua Fortuna Roma C'è un altro oggetto misterioso, ste Fortuna Roma e non la Lazio Safari Ball Ce l'aveva sotto i piedi questo poliziotto Forse la sua gliela rubata Andiamo qua a sapere cosa c'è Sto correndo velocissimo per vedere se trova degli strumenti Come delle case? Sì, dai, prendiamocene una Va bene Vabbè, esploro la veloce io Poi ti dico se c'è qualcosa Non sto scoprendo questa qua più indietro Mi sto fermando Non c'è nessuno Ma non c'è nessuno Ragazzi C'è solo sta vecchietta scema Però anche te Prima mattina staranno lavorando le persone Che storia ti racconta? Beh, vai a parlarci Ma leggila No, no, parlaci tu così la leggi tu Ma bafangule Potrebbe essere importante Schippo tutto e così te la leggi tu, ecco Vabbè, tu intanto scopri dove si nascondono Non c'è nessuno in casa Allora Nessuno E tu non sei di queste parti Vuoi che ti racconti una vecchia storia di Fortebrezza Devi aver pazienza però Sono vecchia e parlerò molto lentamente Dietro questa città c'è un grandissimo cratere Dicono che si è formato Si è formato tanto, tanto tempo fa Con la caduta di un meteorite Si ti racconta che in quel meteorite Fosse nascosto un mostro spaventoso Che una volta si spingesse nel villaggio Accompagnato da un vento freddo Per rapire uomini e poco Per tenere lontano al mostro Gli antichi abitanti costruirono un recinto Attorno al villaggio E si attenderò alla regola Di non uscire di casa dopo il tramonto Ma ora non c'è più nessuno a quest'ora Tuttavia Tutto oggi gli abitanti di Fortebrezza Rientrano sempre in casa Al caldo della sera Ah ok Per dirti che non troverai mai nessuno In casa di mattina Ma però voglio sapere Chi era il poco nel meteorite Un leggendario ipotizzo Magari si Magari no Chi lo sa Se non fosse leggendario Ho sfidato una donzella Ok Ehi allenatore Ehi allenatore Ehi Bastardo Io li ho procurati mi poco Secondo te Spero bene di si guarda Ebbene si Ma hai usato Ma hai usato Ma perché il fatto che parta lento Mi scassa proprio una minchia No l'abbiamo usato Mi sa Una palestra Ah ok Mannaggia Chi manda adesso con Ditto Ah poi sinceramente Non vorrei togliere nessuno Della mia attuale squadra Per lui Ditto In culo Scusatemi Ho fatto lo sfrucchino del collo Ok Ho fatto il volo a curarmi Come a fare in culo Oh Hey Hey Anna Mi mettiamo nel vento Sopra il booster Il booster Il freezer Diesel Pabam Posso non morire Gli hai fatto zuffa per caso Sì Ecco Che quel danno era veramente tanto Eh no Infatti sono cagato Perché pensavo di shottarlo con zuffa E parlare di politica Dire da ieri Roma No Non credo Anzi Mettiamo Però c'è Baschirotto Non so se Se hai seventivu puoi vederle molto Se no Aggiungi seventivu Pabam Cresce l'ira di grumble Cresce No è morto A cazzotti Possiamo fare Non funziona bene Quel tutorial Clefable Hoggers Non si è lottai Ce la facciamo La finiamo a ceppone Hai capito Adesso muore pallo Vado a toglielo Metronomo Come metronomo Esplosione Duro duro Sono tutto duro Comunque punto esclamativo multi E si vedono Entrambe le lives Ma ancora questo metronomo Metronomo è la mossa più broken del gioco Sangue i suga Vedi Brutto colpo addirittura Emo Eh la fine La fine No Ecco qua Fagli ioto começou Io sono imbarazzato Mi fa tutta Ah ma anche Erduca C'ha il pugno forte Sì Ma gli voglio Un cazzotto nei denti Guarda Come l'ho detto dai chissà quanto ha dormito a duca e luca sta dormendo ancora è messi dai vorrete che ci faccia più danno clef table di quando ne facciamo è praticamente morta da sola vabbè perché ti picchi da sola? esatto bene dovrei curare i miei pokemon però aspetta tu chi sei ma stai qua possiamo fare una cattura ora che ci penso no? si ah ok io sono già dal pokemon adesso devi far vedere che cosa sembra prima no? spero di trovare qualcosa di eccezionale invece ma in noctowl non dispiace affatto sai? ce l'avevo shiny in pokemon art gold io ho spinner rack no non ce l'avevi non mi pare mai credo successa una cosa tipo quella che è successa contro magmar che sarei successo? che sono fuggito se vuoi lo ammazzo se vuoi lo ammazzo guarda lo ammazzo volentieri anch'io vediamo chi lo ammazza prima al mio te che parti con la mossa ok 1 2 3 era il 3 non c'era il via non me l'ho fatto quel via ma l'hai fiammazzato prima tu? uffa sono troppo forte io no era zuffo non era troppo forte che simpatico umorista madonna grigio eh già adesso joltio né ah vedasso non l'ho potuto catturare comunque scusate non vi cringiate c'è un oggetto ma ci serve taglio uffa non lo voglio guarda però magari è una vitalizzante aspetta vado io non ho voglia se guardo solo io guardo solo io ce ne manca uno dopo tutto prendo eracross al vuelos c'è un oggetto misterioso poggers ah no è in mare mi sa non vuoi andare in mare? no dico è in mare e non vuoi andarci? ma ci possiamo andare però non so come upgrade upgrade come dire io da 3 anni mi sa cosa fa quest'upgrade c'è tra lunare andiamo lì prendo un disperdi i pokemon quello l'hai capito no? ah spero è super repellente super raba lan allora effettivamente prendo anche un po' al negozietto ecco al mercato che ha il mercato? mio padre compro mio padre totale cartel rosso bello bello uff marò dove sei andato sopra o sotto? gran biscotto sotto ok scusami a sinistra o sotto? sono andato a sinistra sulle scale ma anche dall'altro lato di dritto c'è un oggetto faccio faccio la carta rosso o il flauto? no non la carta rosso lì che cosa altro? la tua il flauto sopra ok sono dove eri tu poi mi avevano fatti potrebbe essere una mossa ma non me la insegna che mossa? quella degli starter forse c'è risalto i basi ok no non mi interessa sbagliato non voglio richiedere la signora basta stia zitta basta ok vuoi parlare col tizio che io chiedo a sola secondo me è una brava persona dici? sì dubbio disco mi ha dato una metà al coperto mi ha dato mi sono randomissimi ah il teatro uno al giorno? sì io sto aiutando tutti gli allenatori stai questo non è un percorso nuovo vero? controllo veloce dalla mappa qua c'è il professore non ho capito niente eh sì aspetta c'è un oggetto nascosto nell'erba nell'isolotto a destra lì in alto c'è neanche uno qua sotto no mi sa che è lo stesso ah no ok uno lì sotto ok maronna santa polve energia pietra brillo c'è un altro qua oddio c'è ancora un allenatore qua una pietra brillo mi serve piromodulo lavottino ah qua sopra bijou vigor cerchio c'è qualcosa altro qui c'è un dosso dove devo andare a cercare nell'isolotto qua sopra giusto sì occhio che c'è l'erba altissima eh lo so siamo tentati di cercare i tesori ieri abbiamo deciso che era la nostra vera eh sì eh sì voglia di fare come si può dire io scendo dove c'è il karateka lo evito scendo lì che c'è un dosso eh sì sì ho visto che c'è un dosso non pare come se non te l'avessi detto io no magari ti confondi e sfidi qualcuno adesso non vorrei mai ah ce ne sono due gli oggetti qua ma c'è anche l'altro oggetto lì sopra se flessimetro è vero è vero è vero torno ah vabbè vabbè tu vai avanti ti dico se trovo un revitalizzante che se lo troviamo no arrivo anch'io ah no devo farmi tutto il giro grande perla ma tu sei un perla no non c'ho voglia c'è un tizio qui li parlo ci sono improbabili siamo un allenatore st dimmi tu dimmi tu ci provo mamma ero allenatore torno indietro lo era proprio ecco qua gustavo pescatore la porca puzzola mi sfida che paura ste bimbe bastarde prendo anche l'oggetto a sto punto e tanto se ti dico a stare di là per forza per forza per forza per forza eh per forza era un oggetto inutile parliamo con sto bastardo coglione ma dai ma cosa ci fa un tizio qua che mi vuole sfidare pesca 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 gastrite don qualcuno qui ha voglia di estate io sì infatti fa un po' fresco adesso ma io a me pure sono giornate un po' soleggiate to allo soleggiare il grigio fuori faccio così no no troppa luce no perché stonto scherzavo victribella continua a lottare caramella rara poggers non ciò che ci serve c'è anche un taglio ma no mi ha sfidato un vecchio dai stefano eccolo erduca buongiorno si è svegliato si è svegliato si è svegliato si è svegliato erduca siamo tutti più contenti sono delle gianni bella è la figlia di mister Krebs sì per la miseria l'ho evocato ma non è vero vi puzzo vabbè manco l'hai nominato erduca ti hai offerto come tributo sì ma hai con cosa hai fatto colazione giusto per informazione eh con cosa hai fatto colazione questa sera no ma solo caffè sicuro quello che c'è stato dentro era una polverina bianca non zucchero no non mezzo lo zucchero ah ho sbagliato aspetta 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 ok matostta per morire chi è questo bogenon mienshao che tipo è mienshao wow vabbè lino un pokemon lotta quindi ti va bene essere con faust perché lo sdrumbo con aerossalto non so se lo sdrumi però ho proprio sdrumato aspetta 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 al dosso itmonily continuo a lottare itmoly sin grande chi mette la farina nel caffè insomma è un okamon lotta amico miglior champ di runitarians non è vero nego tutto ho due fossili vado a fare un check poi esplora pure la città ok quella la puoi evitare passando dall'erba tieni sempre alla destra oh che paura ok dove andare? mi sono penato devo passare dalla carattaca no va bene ma c'era un alligno eh sì sì adesso è un allenatore eccoci ho già te nascosto sì no non sono entrato nel centro pokemon adesso devo riformare il percorso credi c'è inizia da ridere ma ma di nuovo il poker si gege guarda sei veramente imbarazzante ah no perché ce l'aveva era cross niente scusate stefano città no magmatore wow un altro qua ah c'è anche si va anche sopra ho caricato si vuole andare su però che sto tolto l'altro oggetto a vedere di cosa c'è una bea da me ah no non è bea forse è proprio lì sulla roccia eh sì ma non me lo prendo da là occhio che no le cacchie era lì tanto ce l'avevo già super repellente ah eh qua c'è la cattura gege quindi sì di tenere repellente così lo facciamo insieme eccolo fossi il piume mi sa che è pure quello dell'ultima volta sì sì possiamo fare un try comunque volo sì così lì mi mancava ah va a vedere se fossi il piume qualcuno sicuramente sarà qualcuno Stefano questo ok hoppera tapperò devo leggera pipa papavopo papapavopo pipa papavopo allora no non devo ritirare devo depositare posso depositare ok vai un attimo qui torno a prenderli a breve allora ok mi ricordo com'è che si chiamava l'ifeon era un aspetto sfera sì sì li avevo anche segnati tanto sfera scritto con e s maiuscola per vediamo senza spazi oh ghiratina ah no c'è la vita eh va vai in dove vuoi vado a liberarlo dove posso andare ciao ti rai tanti Maran buongiorno grazie mille per il ride eh avete giocato Hogwarts Legacy ho visto com'è state facendo i maghetti e se i maghetti ti fai gli aspetti sposta poco buongiorno buongiorno Ram buongiorno Aku benvenuti benvenelli ehi i venelli lo dico io scusa ah è andata a seguire tutti i run ora è un ordine non è che ve lo sto chiedendo scusami ecco meno male che tu ci hai implementato questo shout out molto comodo per poter seguire al volo è vero noi stiamo giocando a Pokemon è una live in doppio quindi se fate un punto esclamativo multi c'è anche la grafichina abbinata per poter giocare è assurda la cosa è veramente incredibile e non l'abbiamo perso purtroppo a Balto amici Balto era dillo bene nel gioco vero vero era da specificare e da specificare abbiamo perso Balto catturì lì? catturo qui blind proprio si va bene ho il repellente forse si mi sa di eccolo ecco qua ciao varano luano sono scusami buongiorno per il chiesto sono bello l'arvitar poggers non lo voglio non lo vuoi no lo voglio ah ho capito male ah si ho capito male forse dovresti darti una regolata scusa no no non so se funziona se non funziona lo prendo a cerco perché non dovrebbe funzionare un'onda dovrebbe essere rocciaterra e quindi prova parca miseria perché terra vai che ha il 28 lo guardo male e muore si infatti attento che fai fuga no lui è buono lui teniamo ma è partito almeno un messaggio dove deve andare non ho capito buongiorno comunque come va sono vivo oggi vivo avevi scritto dei messaggi precedenti a questo gemo in casa non è arrivato nessuno perché l'arvitar mannaggia chi sono io a chi a l'arvitar ah scusa benissimo tu varano tanto ci stengo a dire che io abbiamo vinto a tabù grazie al tuo nick varano è vero ci sto provando perché c'era come parola varano sì ecco solo dicendo luano io ho detto varano abbiamo vinto ma non va a barzelletta forse per i mod aspetta una sub ball presa in acqua forse conta solo se vabbè vediamo è vero bastardi siamo forti queste proprie riusciamo a vi buttiamo oh c'ho tanto basta lanciare una sub ball nome pel di sas ple di sas ci chiamiamo varano luano va bene tu chi vuole chiamare quale sono io inizio per tu sei un po' un varano anche tu infatti penso più varano io ah mi chiamerò luano no sono varana varana luana varana luano 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 no era la cosa che mi ha fatto ridere a me ah ok non so se ricordi quella cosa eccolo i buzz allora fammi tornare lì intanto se vuoi esplorare tempo che arrivo poi facciamo la cattura beh tempo che arrivi di usare volo eh ma non sono andato al centro pokemon ah è vero che credi io cosa ridi ho talmente sonno che non avevo capito niente e invece e invece allora cosa c'è qua ma c'è camilla è la proprietaria del box e se si occhi di quella datore non avrebbe pensato di incontrare un paese in un paese stranile così lontano qualcuno con il suo stesso sguardo come ti chiami paolo dill ho capito me ne ricorderai mi chiamo paolo allora un datore come te è già da qualche tempo che studi la mitologia dei pokemon lo faccio lo faccio eh lo faccio lo faccio lo faccio per curiosità anche per altro sai che a spiegare ci sono le rovine degli abissi sono venuta per studiare e al momento sono qui ospite di un conoscente bene che dici conoscerci ostia ste ci va vedi tu no dimmi tu ci va vedi tu vedi tu non ti preoccupare secondo me moriamo male ste però penso ok io sono arrivato sarà intorno al 70 credo sondaggio sondaggio in chat vai valeria qui parlo tu o faccio io guarda se ci sono oggetti che lascio no mi sta solo quello in acqua faccio io non ti preoccupare magari tolgo la cosa appena presa sì no fortunato che ho guardato tre minuti dai è il momento è il momento gaming sì momento gaming sì ti va e lui rimane lì fermo immobile non dire nulla nulla per 20 minuti no tre minuti di sondaggio tu ci sta vagando non lo vedo faccio f5 va bene eh sì conviene rifresciare intanto hanno messo questa nuova feature del tag che mi ha fatto scoprire ste quindi bravo ste grazie grazie è un po' rotta come è rotta è un pochino cioè dico graficamente rotta ah vediamo un po' però siamo a 3 sì e un no tu hai votato se non mi ricordo se vuoi votare esprimi pure tua tua opinione io ho votato sì tu hai votato sì o tu hai votato virgola non te lo dico non te lo dico era una domanda sulla frase che hai appena posto era un io ho votato virgola sì ho votato sì esatto ho votato sì manca un minuto e mezzo ho votato cosa mi racconti dimmi un po' ho votato ah infatti cazzo è il voto segreto Giampino per cortesia nevate la salute dei miei pokémon il voto segreto è vero ho votato voto è un diritto e un dovere civico proprio per questo amici vi ricordo che mercoledì c'è il cinematto vediamo dei film tutti insieme su discord e se volete proporne qualcuno potete farlo nella sezione proposte fatto grazie per lo spam questa settimana dovremmo riuscire a vedere così è la vita speriamo speriamo è il mio sogno che si realizza tomaca pochino un minuto fammi entrare dai fai il dialogo e sto contando i voti dei film per questo un attimo ero silenzio e si così la vita è ancora in vantaggio ci divertiamo vinci ci divertiamo ma dopo questa musica poi assai pure manca poco se manca poco tu hai votato gege io si cos'hai votato non te lo dico ok se vuoi ti dico cos'ho votato io penso tu lo sappia cos'ho votato ti ho votato no io ho votato si ah si allora andiamo anche tu hai votato si si io penso dovessi votato no ok sono pronto a vedere un'altra squadra per 5 minuti io ho votato no vi puzzo sei veramente guarda oddio c'ho 6 pokemon se l'abbiamo perso jelly sand chi è jelly sand ma a me che brutto che tipo è acqua spettro acqua spettro un po' jelly sand debolezza spettro buio erba ok ah ma è la è il pokemon quello con i baffoni solo che essendo donna a tutti di un tipo eh d'amelia con le 8 ok quindi a me tutti acqua ma sono al 75 st sì dai sta andando bene è morto nazzo non ti preoccupare a me è morto maxiprocesso come è morto maxiprocesso allora è necessario è morto fausto no io te stico obbligato io te stico obbligato puoi farlo puoi farlo per ora minimizzato a manetta complimenti ho fatto un metronomo anziché minimizzato comunque so per dire angela riguardo al cosa ve ne fate di risuscitare qualcuno adesso ecco qua sei ancora vivo sì per poco erduka però sei ancora vivo un drago danza maxi vado 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 pallo fortissimo maxi è morto ma a fine lotta lo tolgo sì 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 bichia basta fare le danze per cortesia mines ho fatto brutto colpo però non mi ha fatto un cacchio ho il praggio però t'acqua aumentato... questo lo sdrumo? lo sdrumato, ok Zhugong... Zhugong è anche ghiaccio, vero? acqua ghiaccio, sì al momento aspetta... cosa fa il specchio velo? rimanda indietro la mossa speciale che ti ha fatto nel senso che io non la subisco? tu lo subisci e quello che ti fa lo raddoppi e lo mandi indietro lo tanko un colpo secondo te? si che lo tanko, lo tanko si su altre 100 hp vado avanti finchè non fallisce o qualcosa non so non salvaguardia... neanche lui l'ha fatto, ottio quanti due turni ha il velo di salvaguardia? due o tre turni? non lo so io vorrei riuscire ad utilizzare il specchio velo godo non specchio velo ho sbagliato, no specchio velo è quella che devo usare cosa ho fatto? idrondata e fisica eh... idrondata ma tecnicamente dovrei morire quindi destino obbligato non l'ho usata non l'ho usata è stato un fallimento questa cosa ah merduca vediamo cosa riusciamo a fare tu quanti poco non hai ucciso? quasi tutti ma davvero? siamo 1v1 a me mi sto solo uccidendo mi ha ridotto la difesa speciale quello è efficace però non gli faccio comunque un cazzo e fallisci bastardo e niente ho finito io sono veramente in difficoltà super efficace ma qua di super efficace vedo bene non ha fallito erduca erduca Vai Diego ce la puoi fare Questo è il secondo Pokémon Erduka ce la puoi fare Erduka Forza Una bella hiperpozione Te com'è andata quindi? Sono al centro Pokémon Ah ottimo Camilla tu sei proprio guarda Non farmi esprimere Perché da una campionessa non mi aspettavo Certe cose meschine Disse mentre usavo Un' hiperpozione Io ho fatto 20 hiperpozioni di fila E son morto Ma il fatto è che è pure Super efficace Erduka con Erduka non le facciamo nulla Allora adesso dovrebbe tecnicamente usare grandine Esatto perché è finita la grandinata Quindi Wipe eseguito Dai cerca almeno di ammazzarla tu che sei ancora in gara Eh io Ma uso la salvaguardia perché non è più brutta No Sì ok Quante Quante superporsioni usa? Quante Da me ne ho usata solo una mi so Però ti ti ha sbrumato Quanto può essere niente Erduka io credo in te Erduka Non farmi un ottocolpo Perfetto Erduka se gli facessi un ottocolpo Sai Godo E' vinto Mo faccio No no Li ho ucciso solo il secondo po Ah Continuai? Tre Ok Mo però sta grandinando Sarà Mantine Mantine che tipo è? Acqua volante Un po' oh stop fa nulla fa nulla fa nulla oh puoi andare avanti con la grande hai tre turni di grande due forse mi sciotta secondo te chissà poi faccio tra godanza e poi oltraggio secondo me non ti sciotta vabbè per sicurezza hai max ti maxi perché hai maxi uh acquanello che stronza polase ma perché è scarlato mica è scarlato angelo vabbè lo teniamo buono per un prossimo po' con un polase e poi polase acquanello bello che è stato c'è stato nello nello era il pg di undertale ah no no era scusa tu ma ma è morto ok kingdra minchia kingdra è drago acqua drago eh un oltraggio lo sciotta se sei considerando il portato dragodanza però 77 o mamma eh maxi potevi potevi farcela invece no la dragobluse la fangulva mi sciotta sicuro eh porca macca manzi avevi la possibilità di distruggerlo avevi la possibilità erduka è tutto in mano tua madonna erduka se ce la fai esplodo allora partiamo curandoti per combattere a darmi pari non ti fa geloraggio le shot è super efficace acqua di sale complimenti alla signora niente ahmi schelletto ahmi schelletto erduka morto è 3 cavanateve per erduka per questo doveva succedere gegio dovevi provare l'esperienza ma non me l'aspettavo così forte mannaggia eh lo so